Sì Alberto, che valore dai, che peso dai a questo punto ottenuto in casa del Cagliari? Per come si è messo dopo, bene, però dovevamo continuare sulla strada del primo tempo, invece non siamo riusciti. Merito anche del Cagliari e quindi va bene a questo punto. Soprattutto nel secondo tempo il Cagliari ha spinto, però l'Empoli ha saputo reggere il colpo, saper soffrire e nel percorso che poi porta ad una salvezza servono anche queste qualità, anche queste attitudini. Sì sicuramente, sono d'accordo. Si è stati bravi nonostante loro continuassero a buttare sulla palla con davanti i pavoletti. C'era lo vumbo che secondo noi ci ha dato un grandissimo fastidio, però l'abbiamo gestita abbastanza bene. Adesso testa la prossima, testa il Milan. Sì giochiamo contro una grandissima squadra, dobbiamo prepararla bene in settimana. Perché, ripeto, giochiamo contro una grandissima squadra e ha delle grandissime individualità.